Allora, durante la presentazione mi sono preso qualche appunto giusto per poi parlarvene con voi e ce l'ho scritto qua davanti a me. Allora, partiamo dal primo discorso, ovvero è stato presentato il Mi Mix 2S, non il 3. Naturalmente Xiaomi l'ha voluto chiamare così perché non voleva in realtà porre un netto distacco da quello che era il design del Mi Mix 2. In effetti come design si assomigliano molto. Questo sarà leggermente più curvo su tutti e quattro i lati rispetto a quello che è il Mi Mix 2. Però rimangono alla fine quei tre lati che sono comunque bezels. Saranno in realtà più simmetrici tra questi tre lati, quindi la parte sopra dove c'è l'auricolare è stata leggermente ridotta e questo è un bel vantaggio dal punto di vista del design. Un altro aspetto che mi rende veramente felice è quello della mancanza del notch. Allora, non sono contro Apple, mettiamo da parte tutti questi preconcetti. Apple iPhone X mi è piaciuto tantissimo. Non mi dispiace nemmeno il notch, ma sono contento che sotto questo aspetto Xiaomi non sia andata a copiare Apple. Purtroppo però qualcosa bisognava pur copiare, quindi hanno copiato il design della fotocamera posteriore, che non mi piace, non mi piace assolutamente, però poco male. Perché la fotocamera sarà la vera sorpresa, ma ne parleremo tra poco. Comunque il design era talmente bello già quando è stato presentato il Mi Mix di prima generazione che Xiaomi si è potuta permettere tranquillamente di portare avanti un design abbastanza similare per praticamente tre generazioni, senza in realtà dover andare a stravolgerlo. Gli altri sono dovuti andare a rincorrere Xiaomi per quello che ha presentato come prima il Mi Mix. E quindi anche per questa generazione, in realtà senza stravolgimenti però, è rimasto e rimane un telefono estremamente bello. Come sono contento che manchi il notch, sono anche contento dei materiali scelti. Infatti parliamo di ceramica e poi l'alluminio invece per il bordo lungo i latri. Quindi non ci sarà più la versione premium ceramica, mentre le altre in vetro saranno tutte ceramiche su tutte le versioni. Andando però oltre, arriviamo ora al nocciolo della questione, ovvero la fotocamera. La fotocamera è stata la cosa che più ha stravolto quelli che sono tutti i concetti che si avevano di Xiaomi. Ovvero che Xiaomi riuscisse a fare buoni terminali, ma in cui la fotocamera è stata sempre stata un po' scadente. A parte che magari per il Mi Note 3 e anche per il Mi 6, dove in realtà riusciva a fornire buone prestazioni, ma quasi mai comparabili ai top di gamma della concorrenza. Invece con questo Mi Mix 2 dovrebbero essere riuscite finalmente a colmare quel gap che doveva con la concorrenza. E secondo me la vera novità è data dal fatto che è riuscita a combinare finalmente una serie di cose in un unico terminale. Infatti prima avevamo il Mi 6 e il Mi Note 3, che come vi dicevo prima hanno ottime fotocamere, ma purtroppo hanno un design che, ok, è un po' il solito design. Mentre con il Mi Mix 2 aveva un design estremamente innovativo, come lo era con Mi Mix, anzi forse un po' meno, ma comunque innovativo, ma a fronte però di una fotocamera che era assolutamente nella norma, forse diciamo paragonabile quasi a un medio di gamma. Invece con questo Mi Mix 2S è finalmente riuscito a combinare, anzi a migliorare, quelle che erano le qualità fotografiche del Mi Note 3 e del Mi 6 e abbinarle poi a quello che è il design del Mi Mix 2S. Quindi ottima scelta sotto questo punto di vista. Parlavamo di un vero salto nella qualità. Infatti due fotocamere da 12 megapixel con apertura focale 1.8 e 2.4. Quindi ottima, ottima apertura focale che vuol dire che catturerà molta luce, anche se non raggiunge i livelli di Samsung S9, ma comunque secondo me è su ottimi livelli. In più è equipaggiata con un sensore Sony IMX363 con pixel da 1,44 micron. Quindi diciamo che è sugli standard alti che usano anche tutti gli altri. È dotato di stabilizzazione ottica su quattro assi, quindi dovremmo ottenere in teoria video e foto che non sono mosse. Inoltre hanno introdotto il 2 pixel autofocus che a livello teorico dovrebbe garantire degli autofocus molto molto più rapidi rispetto agli altri. Hanno parlato inoltre di multi frame noise reduction per quando si effettuano foto di serie in cui vengono scattate una serie di foto in contemporanea che dovrebbero quindi garantire e permettere una riduzione del rumore nelle fotografie migliore rispetto a quelle che abbiamo visto fino adesso. Insomma, tante novità che sarà però interessante a questo punto vedere e provare quando mi arriverà settimana prossima. A parte tutte queste grandi novità e grandi presentazioni che sono state fatte per il comparto della fotocamera, è stato posto una particolare attenzione e accento durante la presentazione per l'intelligenza artificiale che è stata implementata da Xiaomi grazie al processore 845, ma poi particolarmente studiata dalla ricerca e sviluppo di Xiaomi, così hanno detto, proprio per implementarla nel miglior modo possibile in questo telefono. Un'intelligenza artificiale che va ad aiutare ancora una volta quella che è la fotocamera. Infatti permette, per esempio, questa intelligenza artificiale di andare a migliorare, quindi andare a interpretare quelle che sono le condizioni di luce, le condizioni dell'ambiente e quindi regolare tutta una serie di parametri della fotocamera proprio in base a questa intelligenza artificiale. Inoltre è possibile, per esempio, poter andare a fare degli sfondi animati quando si va a attituare una foto con l'effetto buche. È una cosa particolare che anche questa sarà molto interessante da provare. Certo, non stiamo parlando di innovazione incredibile, ma per Xiaomi avere una fotocamera e un comparto che fa queste cose è sicuramente molto interessante e finalmente oserei dire. Inoltre, questa intelligenza artificiale, per esempio, potrà permettere di andare a fare una traduzione istantanea delle cose che andremo a fotografare e anche una conversione delle valute sempre in istantanea, un po' come per quanto riguarda la lingua, un po' come fa anche Google Translate, ma vedremo anche la capacità, se sarà di più rispetto a quello che fa Google Translate, se lo farà meglio, come lo farà. Insomma, tutti aspetti decisamente interessanti che andremo ad analizzare. Dovremmo essere di fronte a quella che dovrebbe essere in teoria finalmente una fotocamera decisamente buona. Però qui casca un po' il pero, ovvero abbiamo parlato alla grande delle due fotocamere posteriori e la fotocamera principale 5 megapixel, 5 megapixel f2.0. Insomma, qui veramente errore madornale di Xiaomi che bastava mettere la fotocamera del Mi Note 3 e già eravamo a cavallo. E invece niente, quindi persa un po' una grande occasione qui. Errore secondo me veramente importante da sottolineare. L'altra cosa interessante, oltre a tutto il discorso delle fotocamere e del design, è appunto il processore, che è uno Snapdragon 845. Però la cosa interessante, delle cose interessanti, è il fatto che è il primo smartphone cinese ad avere già il supporto nativo con R-Core, ovvero tutto quello che riguarda la realtà aumentata. Quindi c'è già questa stretta collaborazione con Google che permetterà a questo smartphone di essere già pronto per tutte le nuove applicazioni che riguardano la realtà aumentata. E quindi questo, ottimo, ottimo veramente da parte di Xiaomi. Inoltre, naturalmente, essendo il processore più nuovo, abbinato a 6-8 giga di RAM, ho ottenuto su Antutu punteggi incredibili. Ma questo era evidente, lo sappiamo. Non avremo dubbi che sarà un terminale velocissimo che non dà problemi, ma ormai lo sono anche un po' praticamente i medi di gamma. Abbiamo scoperto con la Snapdragon 625 che non ci servivano processori pazzeschi per vivere durante tutti i giorni. Concludo poi, riguardo alla pace mentale che riguarderà molti di voi, ovvero uscirà già con la banda 20, con il supporto della banda 20. Quindi nessun problema con le reti europee, con le LTE, con il 4G, con Wind, eccetera. Prenderà bene ovunque, spero che prenderà bene, però comunque ha supporto nativo già anche per questo tipo di banda. Insomma, concludendo questa piccola chiacchierata tra amici, a me viene da dire che questo Xiaomi Mi Mix 2S avrebbe potuto essere molto di più di quello che è stato presentato. O meglio, Xiaomi sicuramente ha lavorato molto bene su quello che ha realizzato, ma avrebbe potuto fare molto di più. E questo lo dico anche dopo aver assistito alla presentazione del Huawei P20 e P20 Plus, che sicuramente fanno un salto molto più in avanti rispetto ai loro predecessori. Detto questo, però, sono molto curioso di provare questo Mi Mix 2S e speriamo che mi arrivi già la settimana prossima. E voglio provarlo insieme a voi, quindi sintonizzatevi su questo canale e registratevi per poter assistere alla recensione di questo prossimo terminale. E naturalmente mi aspettio che qui sotto commentiate e dite la vostra proprio su questo smartphone. E potete dire la vostra anche sul gruppo Facebook Xiaomi Club Italia. Questo è tutto, vi saluto, ciao da Daniele Pintus, del canale You Can Buy, alla prossima!